Mi sottite? Penso che sì, perché la voce è abbastanza squillante. Buonasera a tutti, è un piacere accogliervi in questa sala meravigliosa. Vi porto naturalmente i saluti del nostro sindaco, Marco Bucci, e mi piace riferire una frase che lui dice sempre quando accoglie in questo salone. Questo è il salone a tutti quanti voi cittadini genovesi, quindi per noi è un onore ricevervi nelle vostre manifestazioni. Ne facciamo tante e noto con piacere anche un tocco di eleganza questa sera, perché non sovente possiamo vedere i fiori, e quindi vi ringrazio perché è uno stile, ahimè, purtroppo non usuale, e invece dovremo riprendere assolutamente le buone abitudini e l'eleganza. Essendo io appunto l'assessore alla scuola, è anche il mio obiettivo quello di fare in modo tale che i bambini, che sono praticamente i nostri semini, che poi diventeranno dei fiori, diventeranno delle piante, possano di nuovo imparare quella che è la buona educazione. Voi sapete che in questo salone abbiamo sia Marco Polo che Cristoforo Polombo, simbolo di unità, ovvero di coesione, e bisogna fare in modo tale che nonostante le possibili divergenze, tutti quanti non invece dobbiamo essere sempre uniti per un unico obiettivo. Quindi devo assolutamente ringraziare la signora che ho avuto modo di conoscere poco, però spero di conoscerla in assessorato da me, per poter portare anche avanti dei progetti, sono a disposizione, in quanto assessora all'istruzione, effettivamente, come ripeto, è molto importante formare i nostri giovani. Sono anche particolarmente fortunata, perché mi porterò via il nostro libro, perché naturalmente devo essere la prima a leggerlo. I saluti istituzionali si portano sempre prima di aver letto un libro, e quindi sarebbe meglio invece poter procedere all'istante. E condivido con voi una piccola cosa, oggi è venuta a trovarmi una mia amica da Lodi, e praticamente mi accompagna in una giornata di assessore, e correndo adesso a sinistra mi dice, ma Marta, ma non dà neanche il tempo per leggere un libro, vedete, l'ha detto giusto, mi impegnerò davanti a tutti per leggere, diciamo, il libro. Quindi, anche perché, indubbiamente, la comunicazione politica oggi, il ruolo dei social networks, è assolutamente un argomento di attualità, e anche in questo caso dobbiamo essere assolutamente consapevoli.